Prende qualche bordo, non funziona più scherzo. Ciao Angelo! Ciao! Potrà lavare il tubo e tutto il resto? Ok. Ponte di Bressana, passiamo al Ponte di Bressana dove c'è il tabù di fianco. Siamo anche il tabù. Tabù, tabù! Sembra un deficiente Angelo o? No, no, hai documentato. Venga Angelo! Lo avrei fatto io ma... Arriva la fibra! Eh, ripeto! Gira! Ah sì! Cosa via adesso? Sì! Ma infatti sembra una tormenta di neve eh Angelo! È vero! Sai quelle tormente che vengono su? Andiamo a Bressana! Andiamo a Bressana! Bressana a Bottaroni! A Bressana a Bottaroni! Stradafaccio Angelo! Allora fai... Aspettare! Vai giù dalla minerva! Andiamo su di là e poi! Poi... Girate in tutto alla ridotta! Sesta uscita! Girate in tutto alla ridotta! Sesta uscita! Sesta uscita! Sesta uscita! Guarda c'è la tangenziale! Andiamo sulla tangenziale! Da... dagli ospedali! Sì Angelo! No! Più che altro che non sia magari bloccata! Non penso eh! No non penso! Tu fai... Dietro dove c'è... Sì! Ospedali e vado! O se no! Sì! O se no! Andando a sinistra! Andando a sinistra! Terza uscita! Ora meglio ancora! Adesso facciamo il ponte! Il ponte poi giriamo dentro a sinistra! Poi... Dico io! Dico io! Sì! Poi giriamo di lì! Sì! Sì! Facciamo il ponte! Poi giriamo a sinistra! Dentro a rigresso! Tranquilo! Tranquilo! Andando a sinistra! Poi giriamo il ponte! E' un tiro! Andando a sinistra! 정ia! Perfetto! 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 Un bocci! Perfetto! Ho giusto! Perfetto! Ecco! Perfetto! Perfetto! giriamo a sinistra più buona sinistra, porte poi tagliamo libero taglio giù hai tu di sotto fai una cabrata girate a destra 5-4-1 elezione patria-norte poi vedete la sinistra coglione no no aspetta lui, tranquilli attacca, attacca te lo devo dire prima che lascia in moto prima che l'accendi non va più eh ma lo stesso salta lo stesso sentiamo che va prima quando ce l'hai bisogno attacchi non va che vergogna i pompieri eh Angelo mamma mia mamma mia mamma mia com'è del mecco adesso è morto Angelo lo sporco una volta si sporcava solo ultimamente d'estate si adesso è già verde c'è già la mugna Angelo già ristagna già ristagna c'è l'ossigeno ufficio sinistri si ahahah questo è dove vanno è pieno di pesci qua boccaloni ma non ti sicuro ah si adesso l'acqua che va dentro andiamo proprio così due come radio c'è da la radio non so che che mi ha preso quante radio ci sono dietro ragazzi c'era una qua? c'era una lì 4 dammi una per lui una ce l'ho di 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie Angelo. Grazie a tutti. 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 Angelo, sul ponte, come tu mi insegni, bisognerebbe spegnerla. Vabbè, la sirena. Tu la tieni accesa. No, più che altro perché si fermano, si bloccano. No, più che altro. No, più che altro. Lo vedete, dov'è? Lo vedete? No. Che bello che c'è anche la neve sui colini. Sì, ma infatti... Sì, ma infatti... Sì. Sì. Così era un po' più pieno questo. Ma che roba? Mamma mia. Mamma mia, Angelo! Mamma mia, non hai visto il fuoco. No, è vero. Adesso no. Pazzesco. Pazzesco. Per quanto andiamo verso un'alza, no? Sì, sì, il tabù. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Questa esatta, è S. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Gira, 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 gira Gira, gira, gira la spesa blocca girate 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 va bene girate è la riva di rovinie si metti sulla strada metti tipo il muso di là si perché sono qua eh ma sono qui cosa fanno questi qua? no ma è là si mette in mezzo alla strada si metto io eh si si va bene c'è per l'incrocio allora abbiamo acceso l'acqua parca soia girate girate a sinistra sv 14 via primo maggio poi fate inversione a 1 a 1 non prende più non prende più cazzo sono operativa paria per prima patenza siamo in posto fermiamolo prima di là ragazzi siamo in posto fermiamolo prima di là ragazzi siamo in posto fermiamo di là bene bagnata oltre le cose che south questa è qua c'è Poi fargliela Riappo, riappo Grazie a tutti.